Buon pomeriggio, oggi è lunedì ed è il 17 aprile del 2017 a Pasquetta, spero che abbiate mangiato e bevuto bene. Oggi è passato questa giornata in grande compagnia, con tanta gioia e serenità del resto, quello che il nostro padre vuole per ognuno di noi. E' di questo di cui volevo parlare per qualche istante, molto breve, quello che c'è scritto in Geremia 29, versetto 11, una dichiarazione meravigliosa che Dio fa sopra la nostra vita, dove dice Perché io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Molto spesso non riusciamo a vedere un futuro davanti a noi per il semplice fatto che non riusciamo a comprendere quello che Dio vuole nella nostra vita, quello che Dio pensa a volte di noi. Non è soltanto quella che è la volontà di Dio che sta davanti a noi, ma a volte non abbiamo una chiarezza su quello che è il pensiero di Dio nei nostri confronti. Cosa pensa Dio di noi? Cosa pensa quando ci guarda? Cosa pensa quando dirige il suo sguardo verso di noi? Beh, lui è il nostro padre, il suo sguardo verso di noi è uno sguardo benevolo, uno sguardo pieno d'amore, pieno di grazia, ed è proprio questa la dichiarazione che oggi voglio così un po' amplificare nel vostro cuore, nella vostra mente. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. E se stai pensando a quale futuro hai davanti a te, voglio dirti che il futuro che hai davanti è un futuro, come dice qua, un futuro pieno di benevolenza, pieno di grazia, pieno di prosperità, pieno di abbondanza, pieno di benedizione. Questo è il pensiero di Dio verso di te, questo è il cuore del padre nei tuoi confronti. Quindi desidero che tu non ti senta smarrito, smarrita, non ti senta così confuso. E se anche stai attraversando dei momenti molto difficili, molto particolari, riceviamo tantissimi messaggi, tantissime email nel nostro ministerio. Dove veramente vediamo a volte la disperazione che c'è nel cuore delle persone e nello stesso tempo a volte vediamo realmente pregando, intercedendo per loro, come Dio risponde, come Dio opera in maniera meravigliosa. E vedere il nero trasformato in bianco, le tenebre in luce, vedere tutto quello che sono le opposizioni, tutto quello che sono le momenti difficili, essere trasformati in qualcosa di straordinario, perché alla fine realmente, come dice Paolo, tutto copra al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi se tu stai cercando di comprendere cosa Dio pensa di te, qual è la volontà di Dio verso di te, beh, Geremia 29,11 lo dice molto chiaramente. Io conosco i pensieri, i progetti che ho per voi, ok? I pensieri di pace, progetti di pace e non di male per darvi un futuro, una prosperità, per darvi abbondanza, per darvi ricchezza, per darvi protezione, per darvi tutto quello di cui avete bisogno per vivere questa vita in questo tempo, per darvi una speranza, per darvi obiettivi, per darvi delle visioni, per farvi comprendere dove state andando, come andare, dove andare e in che modo farlo, con chi farlo e quando farlo. I pensieri di Dio e il cuore del Padre verso di noi sono completi di tutto quello di cui abbiamo bisogno, veramente lui è il nostro pastore e nulla ci mancherà, nulla ci manca e anche se in questo momento manchi di qualche cosa, con la sua presenza non manchi di nulla, con la sua grazia non manchi di nulla, vai avanti sapendo che lui ha dei pensieri meravigliosi di pace e non di male, ripeto, di pace e non di male, quando pensi a qualcun altro che magari non ti piace, non ti fa molta simpatia, ricordati che anche verso di lui o verso di lei, Dio ha, il Padre ha pensieri di pace e non di male per dare loro un futuro e una speranza. Voglio incoraggiarvi in questo giorno sapendo che il mio Dio, come dice Paolo, supplirà ad ogni nostro bisogno, secondo le sue ricchezze e con gloria, quindi passate ancora una buona serata e godetevela fino all'ultimo, domani un altro giorno avremo altri pensieri, altre cose da condividere e avremo altre sfide e vedremo altri miracoli. Una buona giornata!